Dopo lo spavento di Cosenza, stai bene? Giocherai la prossima partita che Pescara giocherà con il Lecce? Tutto passato? Sì, sì, per fortuna non è stato niente, è soltanto un po' indurito il muscolo e sto bene, quindi penso di esserci per Lecce. Aveva detto Pillon, proprio ai nostri microfoni al 91esimo, non avrei mai sostituito Antonucci, stava giocando benissimo, forse una delle tue migliori partite quest'anno? Sì, penso che fino al primo tempo eravano delle mie partite, ma il calcio è così, purtroppo c'è stato quel piccolo infortunio che non mi ha permesso di tornare in campo, però sono contento comunque che la squadra ha raggiunto il pareggio. Pescara primo in classifica, nonostante un punto raccolto nelle ultime due gare, si pensa già alla sfida con il Lecce, è una gara difficile contro forse la rivelazione di questo campionato? Guarda, penso che in Serie B da quel poco che ci gioco ho imparato che tutte le squadre sono difficili, tosse, poi soprattutto quando vengono a giocare contro di noi che ora siamo lassù. Noi entreremo in campo come abbiamo sempre fatto e cercheremo di portare a casa i tre punti. Quali sono secondo te le insidie della gara con i pugliesi? Non lo so, però penso che loro sono forti, sono una bella squadra, ma come ho detto prima, se noi scendiamo in campo come sappiamo, faremo belle cose e penso di portare a casa i tre punti. I tifosi si aspettano di rivedere il Pescara che avevano ammirato fino a un paio di partite fa. Cosa è successo tra la sfida con il Cittadella e quella di Cosenza? Non siete stati brillanti come al solito? No, non penso che non sia successo niente, il calcio è così, non puoi stare sempre al 100% come non puoi vincere sempre, ma noi come ho detto prima scendiamo in campo sempre per vincere, poi se il risultato arriva ben venga, se non arriva di certo non è perché siamo scesi in campo con un po' di concentrazione o altre cose. Sei tornato a giocare titolare, a questo punto possiamo dire che ti manca solo il gol? Sì, assolutamente, spero che arrivi presto, però come ho sempre detto c'è prima la squadra e se la squadra sta andando bene a me va bene così. A livello personale oltre che di squadra il bilancio di queste prime dieci giornate è un bilancio sicuramente positivo? Sì, sicuramente positivo, ma non ci dobbiamo accontentare come io non mi accontento e spero di fare sempre meglio. Come si trova Antonucci a Pescara? Benissimo, benissimo.